Buongiorno a tutti, siamo alla Casa delle Nuvole, alle vada di Ponte di Piave, dove c'è la famiglia Donnazion al completo, che ha offerto il pranzo di oggi, il nome presidente Lorenzo Ostanello e il sindaco Paola Roma e il vice sindaco di Ponte di Piave. Passo la parola a Lorenzo Ostanello, presidente della cooperativa. Sì, io approfitto intanto per ringraziare tutti quanti di questa opportunità, per noi è una grande opportunità perché ai ragazzi e al personale e agli ospiti della comunità dà un senso di Pasqua e di festa in maniera particolare, soprattutto in questi giorni. Ringrazio del pensiero per averci anche così fatto riferimento, pensato alla cooperativa in questo momento, il ristorante Sette Nani con i signori e tutta l'amministrazione comunale con il sindaco Paola Roma. È per noi veramente una cosa importante, sembra poco però dà una svolta, dà una qualità alla vita e alla giornata in maniera molto particolare. Grazie, grazie veramente di tutto. Grazie a lei. Adesso passo la parola al sindaco Paola Roma. Beh, io ringrazio intanto i Sette Nani per la disponibilità e soprattutto perché proprio in una giornata come quella di Pasquetta, in cui eravamo abituati alla gita fuori porta, all'essere vicini alla comunità, alle nuvole e a tutto quello che rappresentano, non solo per il nostro territorio ma la cooperativa alternativa per quanto riguarda i servizi che eroga anche a tutti quanti i nostri comuni, davvero un bellissimo gesto di vicinanza, non solo agli ospiti ma anche a chi è in prima linea, quindi a tutti gli operatori e a tutti i tecnici che giornalmente ci danno una mano e sono vicini ai nostri ospiti. Quindi davvero perché questa è un'apertura del territorio importante in una giornata come questa, dove solitamente le persone uscivano per la gita fuori porta. Quindi davvero grazie perché questo è uno spirito di solidarietà importante che avviene nel nostro territorio e speriamo che responsabili, consapevoli e solidali i cittadini capiscano anche oggi di rimanere a casa.